Ciao ragazzi, gruva terzine, partiamo dal 9 1, 2, 3 and 4 10 adesso l'11 e 12 e 13 si sviluppano su due misure 1, 2, 3, 4 12, 3 e 4 l'ultimo, il 13 3, 4 l'ultimo, il 13 si sviluppano su due misure 1, 2, 3, 4 l'ultimo 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 Grazie.